buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti con un bitcoin che ci tiene sulle spine perché proprio oggi è andato a pescare liquidità sotto i minimi a fare quel cosiddetto sweep di liquidità e adesso dobbiamo vedere se sarà uno sweep o se sarà un lower low quindi tensione ai massimali dove sono i bull glasses qualcuno chiede dite che è il momento di indossarlo non lo so non vorrei che poi indossandoli troppo spesso perdono un po l'effetto comunque solo io lo schermo nero spero di sì sinceramente perché altrimenti ci sarebbe un problema comunque ben ritrovati è sempre un piacere trovarci live a scambiarci un po di opinioni su quello che succede che non succede che speriamo che succeda facendo un po di analisi su bitcoin sulle al coin che in questo periodo ve l'ho detto è una situazione un po tesa ci stiamo avvicinando al low precedente sta per chiudere l'anno insomma stanno succedendo un bel po di cose nel dubbio accumuliamo e qualcuno giustamente dice non succederà una fava d'altronde l'ultima settimana come potete vedere da questo grafico è abbastanza insulsa ma non so tra l'altro mi era venuta un'idea che non so se vi può piacere interessare oppure no che era integrare magari nelle nostre analisi aspettate che apro lo strumento se ci riesco vi ricordate bookmap quello strumento che utilizzavamo per andare a esaminare la liquidità all'interno del mercato ecco lo ho riesumato per come dire completare le analisi che faccio e quasi quasi lo potremmo buttare dentro nelle nelle analisi dei grafici per vedere qualche dato in più il problema è che adesso si l'ho aperto molto bene ma non ho preparato minimamente twitch a importare anche questa finestra quindi facciamo che lo facciamo dalla prossima volta però potrebbe essere un'idea anche perché mi ricordo che avevo fatto un'analisi proprio in questo range e si vedevano bene certe zone di liquidità in domande in offerta che sono poi dipendenti dai movimenti degli order book no si riesce a vedere con alcuni tool dove vengono messe e tolte e con che frequenza tra l'altro le limit order e quello è una bella aggiunta secondo me al al grafico che vediamo qua di prezzi e volumi perché a prezzi e volumi insomma denota abbastanza stanchezza cioè sembra che veramente bitcoin non ci abbia voglia né di salire né di scendere è qua che lateralizza con questo canalino discendente che però non è minimamente direzionale abbiamo vedete degli sweep che ogni tanto vengono fatti e subito riassorbiti quindi c'è veramente equilibrio totale il problema è che se l'equilibrio lo perdiamo e magari lo perdiamo in cioè a favore dell'offerta in vendita andiamo a se andassimo o meglio a confermare per la prima volta un low un lower low quindi non sweep ma lower low effettivamente confermato sarebbe un primato in questo range in questa zona e amplierebbe abbastanza le possibilità le aumenterebbe di andare poi a di nuovo a testare i low macro no i low di questa zona e sapete come la penso cioè se arriviamo a fare un equal low purtroppo la situazione rallenta ancora di più c'è un po' una scocciatura insomma mi piacerebbe vedere l'ideale per me sarebbe vedere della domanda che entra a gamba tesa proprio ora ci salva dall'equal low ci fa pompare e ci fa recuperare la una situazione più bullish magari andiamo a fare sì un lower high ma però andiamo ad avere un un inquadramento una struttura accumulativa stiamo a vedere infatti ho intitolato questa live ti prego pompa ti prego dai bitcoin facci felici nel frattempo io avevo proposto anche una cosa no non so se avete letto su twitter ma io ho detto ma facciamo cioè non è difficile no vogliamo migliorare un po' la situazione del mercato basta fare così tutti gli exchange si mettono d'accordo disabilitano il tasto sell oppure metti sell verde e buy rosso per fare un po' di casino no visto che adesso tutti vogliono vendere apparentemente no scherzi a parte vediamo vediamo un po' come si risolverà questo equilibrio perché dipenderà poi tutto di fatto da lì alla fine della live andiamo a vedere anche i grafici settimanali il grafico settimanale o meglio che è importantissimo perché lì si denota molto meglio il range e la chiusura di questa settimana anch'essa ci dirà molte cose quindi veramente attenzione a sabato e domenica lunedì ci aggiorneremo su questo e poi andiamo a vedere qualche altcoin che sembrano un po' tendenzialmente in difetto il mercato delle alcoin è un attimino in difetto con le solite dovute eccezioni tipo luna che ormai non conosce veramente ritracciamenti non conosce manco solana beh solana va un pelino peggio di luna ma luna e solana sembrano immuni a qualsiasi flessione downtrend solana tra l'altro cercano di martoriarla in tutti i modi l'han fuddata clamorosamente ma se ne frega e va per la sua strada a parte questo un sacco di cose da dirvi oggi quindi iniziamo subito più carichi che mai pure avax qualcuno dice vero anche avalash è veramente una mina vagante in questo periodo ha fatto un retest e un rimbalzo da manuale e pazzesco veramente impressionante qua si si va a inserire nel discorso che facevamo l'ultima le ultime volte no del della divisione del mondo al coin in quelle al coin che stanno dimostrando indipendenza un po dal mercato e quindi un valore intrinseco e della domanda come posso dire domanda tutta loro cioè non perché le al coin salgono compriamo al coin a caso per speculare no c'è domanda specifica per alcune al coin cosa che se avete presente come ha funzionato il mercato negli anni scorsi non è mai successo a parte rari casi a parte ethereum che di solito è l'unica che va un attimino per la sua strada e questo io credo sia un gran bel segno di maturazione del mercato e come spesso è accaduto nell'ultimo periodo si tratta sempre di defy layer 1 e layer 2 sono questi i settori c'è anche il settore gaming metaversi però lo tratto sempre con un attimino di cautela in più perché al momento è veramente veramente spinto ed esteso quindi mi spaventa ancora un attimino preferisco andarci piano andarci con cautela allora cominciamo subito con un po di cose interessanti partendo dal mondo terra mondo terra white whale white whale ve lo volevo portare all'attenzione perché a me lo stavo studiando un po oggi devo ancora finire di studiarlo bene ma è un protocollo finalizzato a mantenere a giocare sull'arbitraggio su ust e non solo in realtà ma principalmente su ust per mantenere il peg a 1 quindi se depega interviene con le sua la sua treasury che ha una treasury tra poco vediamo come funziona e di fatto interviene in quel modo lì proprio per mantenere il peg guadagna e lui guadagna dall'arbitraggio ha raccolto ha lanciato il token da poco con un metodo tra l'altro molto interessante perché guardate tra l'altro ringrazio giacomo che mi ha fatto scoprire un amico della community mi ha fatto scoprire voi direte benvenuto e buongiorno e avete ragione perché io utilizzavo sempre alpaca quella dashboard un po balorda per guardare la liquidità su terra swap c'è coin all che è decisamente meglio quindi grazie per avermi riportato al presente e non a 10 anni nel passato però volevo vedere con voi semplicemente il grafico di whale perché si vede bene andiamolo a vedere su terra swap per l'appunto si vede bene o forse no in realtà non so se ci sono abbastanza dati il lasta iniziale che hanno fatto era un'asta ribasso vediamo vediamo se si riesce a vederla bene no non credo secondo me qua non c'è perché c'è solo la liquidità cioè il prezzo appunto su terra swap che ha praticamente zero liquidità comunque il il token whale era stato venduto con un metodo ad asta ribasso quindi passava il tempo il prezzo scendeva per far sì che i bot non scalpassero tutti i token cosa che purtroppo nelle vendite iniziali accadeva spesso è stato un successo è piaciuta molto perché c'è stato una price discovery efficace e ha raccolto il primo il primo bacino di capitale da mettere nella sua treasury il funzionamento di white whale sarà un protocollo liquidity avete presente il concetto della defi 2.0 non ereditato da olympus dao dove il protocollo possiede liquidità e sarà gestito in maniera analoga nel senso che il protocollo permetterà tramite la vendita di bond l'acquisto di token nasconto che si metterà in staking quindi sarà molto simile a olympus dao e dintorni il suo funzionamento e la liquidità di white whale vedete sarà gestita internamente per giocare sugli arbitraggi ma non solo perché guardate una parte la mettono su anchor quindi la mettono anche a rendita e infatti vi volevo far vedere proprio questo tweet nel quale viene detto che per massimizzare l'efficienza la capital efficiency del capitale della treasury di white whale è stata messa proprio su anchor protocol 6 milioni di dollari su anchor protocol e lo staking e le ricompense arriveranno presto secondo me è un protocollo che vale la pena seguire e tenere sotto controllo perché è stato appena lanciato adesso non ci sono ancora particolari funzionalità si può soltanto swappare ust in whale per acquistare di fatto il token ma poi col token whale al momento non ci puoi fare nulla quindi sarà interessante quando si potrà mettere in staking quando ci sarà il meccanismo di bond e poi insomma il il revenue del protocollo stesso dipenderà dagli arbitraggi e sono curioso di vedere anche come implementeranno poi una distribuzione dell'utile in qualche modo i token holderò agli staker perché secondo me è una cosa più che legittima e c'è del grande potenziale quindi questo per quanto riguarda terra fatemi pensare se avevo altro da dire su terra ma mi pare di no a parte scillarvi coin all che è un sito che insomma assolutamente valido per seguire i prezzi sui decks del mondo terra ma non me ne prendo il merito perché non l'ho scoperto io poi allora ecco boxes qualcuno di voi mi aveva chiesto mi fa ma ti sei perso il launchpad nuovo di binance boxes in realtà no non non so perché non ne abbiamo parlato forse perché non è saltato non ho letto la domanda nella live mi dispiace per questo perché lo trovo molto interessante in realtà il launchpad è finito che io sappia fatemi cercare al volo proprio ma se non erro pa 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 vediamo vediamo launchpad mi pare che sia finito qualche giorno fa in compenso adesso c'è un nuovo launch full high ultimamente binance si sta lanciando un sacco su gaming play to earn metaversi e di rete guarda caso perché comunque un trend fortissimo e tutti i launchpad che escono su questo settore cioè fanno numeri veramente folli e voxys eccolo è terminato il 14 ok quindi sì direi di sì e non lo so qualcuno di voi per curiosità sta riuscendo a partecipare ai launchpad io ci provo sempre 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 e purtroppo cioè la locazione serve un'allocazione di bnb abbastanza importante per riuscire a partecipare ero curioso di vedere se c'era già qualche risultato pa 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 vediamo cioè di quanto in media le persone hanno ricevuto perché adesso la in funzionamento dei launchpad di binance è quello proporzionale cioè se uno partecipa con tot bnb in base a quanti bnb rispetto alla fetta complessiva ha allocato avrà una come si chiama un'allocazione appunto di nuovo di token maggiore o minore appunto proporzionale e sono curioso anche di vedere quando verrà listato adesso mi direte l'hanno già listato io sono veramente fuori dal mondo ultimamente sono stato un po meno sul pezzo perché mi sono dedicato a una cosa che a breve vi annuncerò e vi farò veramente impazzire giuro ma 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 vediamo se c'è già non credo perché allora vo voxel no non c'entra questo è voxies ok no direi di no comunque niente al di là di tutto è carino è un altro play to earn gratuito tra l'altro free to play tattico quindi è una specie di gioco di ruolo dove tu hai questo personaggino che si chiama voxy ti muovi in questa mappa devi utilizzare gli elementi della mappa a tuo vantaggio hai un moveset hai un po di cose insomma una dinamica carina mi piace molto e insomma non lo so sarebbe carino stavo anche pensando fare magari qualche live ogni tanto dove si gioca qualche giochino di questi però non vorrei neanche andare troppo off topic vedremo vedre ci ragioneremo dai cosa sul cosa si potrebbe fare magari su su instagram anziché su youtube sarebbe ogni tanto viene voglia di giochicchiarci un po che perché stanno uscendo dei giochi veramente ben fatti veramente belli e questo è uno di quelli che mi attira come al tempo mi aveva tirato ax infiniti poi ho detto non c'ho tempo non c'ho tempo mi son mangiato le mani perché ci avessi giocato di più adesso mannaggia me probabilmente avrei qualche spi qualche cipino in più da lanciare in giro poi giustino sole si è ritirato da tron no in realtà non si è ritirato da tron ma ha detto che ha fatto un passo indietro dal suo dalla sua leadership il che vuol dire che non lo so continuerà a supportare la community bla 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 però di fatto ha fatto un passo indietro dal cioè non vuole più essere lui il vertice di tron vuole decentralizzarlo così ha detto non so come ha reagito tron stessa vediamo non se ne è sbattuto a no ha dampato ha dampato cioè dampato meno 4 per cento però vabbè non diciamo che non è proprio nella sua forma migliore tron ultimamente ma adesso senza il nostro giustino non so come farà sembra che il bottom questo v-shaped bottom l'abbia fatto e poi adesso sempre in sto canale non sembra aver tanta voglia di uscirne questo è pure un grafico settimanale quindi non attira granché tron ultimamente defy non non ce n'è troppa cioè non lo so tra le varie chain mi sembra una di quelle meno attive è utile solo per spostare usdt dagli exchange da un exchange all'altro ecco un utile come stellar che è utile solo per prelevare fondi dagli exchange ma pure la centron è utile solo per quello per prelevare usdt comunque 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 andiamo avanti con un'altra notizia interessante consensus che è una software house basata su ethereum su smart contract che lavora allo sviluppo di dappe smart contract vuole costruire in partnership con mastercard un nuovo layer 2 su ethereum una nuova soluzione di scalabilità finalizzata a portare fino a 10.000 transazioni al secondo il throughput su una chain privata lo scopo chiaramente c'è mastercard quindi è pagamenti non è la classica chain con defy eccetera eccetera ma integrabile anche con il resto poi chiaramente tu implementi una soluzione di scaling non è che la usi solo per forza su una chain privata poi è utilizzabile in maniera anche pubblica è open source come sempre la chain privata servirà per il progetto con mastercard per il loro sistema di pagamenti tanta roba perché fa vedere come lo sviluppo cioè il problema il la polemica di ethereum no delle gas fee è già vecchia è invecchiata nel giro di pochi mesi da quando è nata in verità perché ci sono tantissime alternative tantissime soluzioni senza uscire neanche da ethereum a volte vedi arbitrum e vedi vai i vari layer 2 e soprattutto si sta lavorando sempre di più in questa direzione quindi anche se in futuro non dovesse uscire ethereum 2.0 supponiamo cosa che non accadrà perché ethereum esce ethereum 2.0 noi avremo layer 2 non dovremo uscire da ethereum ma avremo dei bridge mi auguro fate un po meglio non so se avete visto il mio la mia terza puntata sul corso di defy sui bridge e non vi siete sparati durante durante quell'ora di un'ora di video sui bridge ragazzi io vi sto odianto vi odio per farvi questo non non ve lo meritate proprio ma scherzi a parte avrete visto che i bridge sono molto imperfetti ora come ora alcuni funzionano con una chain alcuni con un'altra ci sono i token wrappati ci sono tante limitazioni poca liquidità e così via quindi io mi aspetto in un futuro una situazione dove ci sono più bridge e fatti meglio cioè magari c'è il bridge dei bridge no usi solo quello e brigi tutto con facilità e comunque questo servirà anche per il passaggio l1 l2 e soprattutto su un l2 tu non lasci ethereum mai la sicurezza e la decentralizzazione di ethereum con la velocità di un di una chain che scala ok questo è la questa è la cosa importante sarà basata sui roll ups anche quella i roll ups sono un qualcosa su cui si sta picchiando molto nello sviluppo e si chiamerà consensus roll ups è in fase di sviluppo quindi non so quando la vedremo ma ve lo volevo solo dire poi passiamo facciamo un salto un volo pindarico sulla chain brigiamoci sulla chain cosmos cosmos io ve lo sto dicendo tenete d'occhio cosmos seguitela non vuol dire comprate atom comprate le coin e token ma tenete d'occhio cosmos perché il 2022 per cosmos lo vedo molto molto bene si stanno superando un sacco di limitazioni che aveva stanno nascendo tanti progetti c'è una community molto florida ci sono eardrop tante belle cose e è il motivo per cui ho iniziato a giochi chiare no col mio nodo validatore su desmos che tra l'altro sta andando molto bene sono molto contento non sarà l'ultimo io voglio partecipare attivamente anche alla sicurezza delle chain e all'ecosistema stesso è una cosa che vi spoilerò già il fatto che non ci si guadagna niente perché di fatto le entrate sono molto minori soprattutto su chain piccole e su chain comunque non a grandissimi volumi come quelle di cosmos sono più le spese di mantenimento del validatore che le entrate però è bello partecipare al progetti direttamente no un supporto diretto al di là del semplice comprare il token che a volte non mi interessa neanche sinceramente no quindi questo per dire che sono molto bullish su cosmos per il 2022 vale la pena seguirlo ci sono un sacco di cose interessanti vi avevo citato juno l'altro giorno che ha fatto l'eardrop poi cos'altro c'era ce n'erano degli altri che vi avevo forse appena appena menzionato beh comunque ne riparliamo oggi anche e adesso è uscito è uscita anche la prima shitcoin su cosmos che è chihuahua mi pare che si chiama roba del diabo lasciamo perdere il gravity bridge era un aggiornamento invece molto atteso perché permette di brigiare da ethereum a cosmos e alla sua chain sapete che su cosmos c'è questa particolarità che non è che crei un token no nelle su su ethereum tu crei token su bsc crei token su cosmos crei una chain perché il pacchetto no di base cosmos col suo sdk e il consenso tendermint ti permette di tirare su una chain quindi tutti anche chihuahua stesse è una chain una shit chain siamo veramente passati al livello successivo e il gravity bridge con la sua chain quindi permette di brigiare da ethereum a cosmos che è un tassello assolutamente fondamentale cioè veramente importante come cosa quindi sbloccherà la liquidità di ethereum e le permetterà di migrare anche su cosmos poi invece ecco questa è una cosa interessante evumos evumos è una chain sempre un progetto su cosmos che porta la evum compatibilità quindi gli smart contract tantissima roba e fa un airdrop folle completamente folle non so se avete visto ve l'avevo condiviso su telegram l'altro giorno ci sarà un airdrop agli utilizzatori diretti della governance di atom quindi i delegatori chi ha votato alla proposta 44 nella governance eccetera eccetera questi due gli utilizzatori di osmosis quindi di nuovo delegatori ovvero gli staker staker non su piattaforme centralizzate non so se esiste tra l'altro lo staking di osmo su exchange ma se volete ecco vi do un consiglio se volete partecipare agli airdrop futuri di cosmos mettete in staking non su exchange ma tramite il vostro wallet perché altrimenti non sarete elegibili anzi regalate gli airdrop agli exchange probabilmente e quindi utilizzatori di osmosis delegatori liquidity provider su questi vari pool osmo ust liquidity provider di nuovo gli holder di ion e gli utilizzatori dell'ibc quindi chi ha fatto delle transazioni tramite ibc e poi udite udite gas drop agli utilizzatori di ethereum eirdroppano pure agli utilizzatori di ethereum folle sta cosa in particolare agli utilizzatori di queste piattaforme defy quindi credo che ci saremo dentro più o meno tutti in base a quanto gas si è speso quindi più avete speso in gas più avrete il diritto a questo airdrop non perdetevelo mi raccomando perché credo che coinvolgerà quasi tutti quanti voi infine gli utilizzatori dei bridge evm quindi wormhole eccetera c'è tutti quelli principali no any swap tra avalanche ed ethereum eccetera eccetera e infine chi è stato rectato negli exploit o nei rug pool defy più conosciuti tra cui iron finance quindi se avete delle perdite a causa di iron finance o di altre di altri rug pool oppure exploit che ci sono stati tra questi potrete ottenere un'altra allocazione di airdrop incredibile non ho mai visto un airdrop del genere quindi mi raccomando controllate bene la vostra eligibilità perché l'airdrop sarà riscattabile nel momento in cui evmos andrà in mainnet ovvero a metà gennaio 2022 save the date mi raccomando e lo snapshot è stato preso il 25 di novembre quindi se adesso andate a dare liquidità su osmosis non non succede nulla non avete comunque diritto ok quindi molto molto bello sto airdrop mi gasa veramente una cifra poi procediamo vvs perché ce l'ho aperto perché ha aggiunto ecco a proposito di vvs chronos se integrato con ibc quindi parla con atom cosmos ed intorni e non so se è già visibile nella map of zones vediamo 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 allora vediamo se è già comparso chronos forse no devono ancora aggiornarla vedo ancora solo crito punto org esattamente esattamente comunque è stata è stata resa compatibile vi dicevo con l'ibc ed è arrivato atom il primo grande ospite quindi con il pool su vvs croatom con un apr interessante chiaramente espone sia crocchi ad atom quindi considerate se fa per voi oppure no non ho controllato male male devo controllare subito se c'è su bifi con l'auto compounding farm and dump e si vola vediamo no bsc chronos 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 atom croc not bad 1 per cento al giorno ma direi che perché no perché no e basta questo è la novità ultima cosa ma non ultima su convex e ultimamente ne parleremo spesso ne parleremo spesso dove 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 eccola c'è il pool tre euro quindi per chi cerca una rendita defy sull'euro che insomma spesso salta fuori come topic no c'è il pool tre euro che contiene le tre stable coin su su euro è il pool di curve chiaramente convex si appoggia sempre ai pool di curve e aspettate che ve lo pesco fuori si dobbiamo tornare su etereum lo so benissimo si ho il pools vediamo di andarlo a pescare a che velocità è che velocità eur dai forza 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 3 eur pool eccolo qua vedete ag eur che è di angle magari parleremo di angle un altro momento ma è insomma anche lì un protocollo di di stable coin pegate ad altri asset eurt che è quella di tether ed eurs che è stasis euro quello che conosciamo insomma solito e pool liquidissimo tra altro guardate che volume 7,6 milioni in 24 ore e una liquidità pari a 50 milioni pazzesca è strautilizzato tasso di utilizzo quant'è non me lo dice vabbè grazie mille mi sarebbe piaciuto vederlo ma facciamo la divisione noi 7 milioni e mezzo diviso 50 è abbastanza alto per la media e se si busta su convex guardate 34 e 7 attuale projected 89 per cento in che modo così guardate vedete c'è l'esploso se andate a cliccare sulla i vi fa vedere da dove derivano gli apy non è altro che il rendimento che darebbe curve non so se avete fatto con mannaggia ho cliccato una volta di troppo non so se avete fatto caso chiudo binance intanto se avete fatto caso che ha bustato quel pool lì da eccolo c'è l'apy di base dato dal volume di trading poi bustato da crv e chiaramente convex ti busta al massimo ed è lì la furbata di convex e angle che anche lui da liquidity mining di un 7 per cento in più che schifo non fa e infatti vedete che tac con il nuovo busta di angle e i parametri aggiornati il progetto dei pr sarà circa il 90 per cento niente male niente male è però il suo etereum ve lo dico scusate non è colpa mia le fissono alte poi come funziona allora dare liquidità al pool ottiene il che nelle p metti le lp su convex fine basta ho terminato ho terminato ora tocca a voi ritorniamo sul nostro graficozzo settimanale di bitcoin occhi puntati e tocca a voi bene procediamo no non dirci nemmeno le cose di etereum ma sì che ve le dico dai ragazzi sono sono più che valide sono più che valide magari ultimamente ci sono come caspita si dice ci sono anche delle fi minori su su etereum da sheet coin a sheet chain a un attimo è vero è veramente cosmos ha portato questo all'ennesimo livello l'ennesimo livello luca mi daresti un'occhiata vet cortesemente a bearish allora vediamo vediamo il graficozzo di vet dov'è qua dunque purtroppo non è proprio nella sua forma migliore perché vedo dei gran lower high lower low quindi al momento non lo toccherei abbiamo anche appena rotto un support c'è appena un po di tempo fa in realtà abbiamo rotto questo supporto 200 satoshi quindi sinceramente prima che almeno non iniziamo a invertire questa struttura recuperando magari i livelli io ne starei lontano speculativamente è chiaro sia chiaro questo allora ciao luca un problema stamattina ho trasferito btc da nexo ad ftx ma su blockchain explorer la transazione non è ancora stata confermata temo che nexo abbia speso da fi ridicola per lo spostamento perciò temo che la mia richiesta non verrà mai fillata cosa devo fare secondo te le fi erano a carico di nexo per cui non potevo scegliere una priorità grazie ma davvero dai che barboni nexo che combinate scrivigli subito scrivi al support e dirgli ue barbone ma spendili due centesimi per le gas fee io non lo so io non ma non so neanche alte le gas fee di bitcoin in questo periodo c'è una transazione con meno di un dollaro di di fee gas fee scusate so che non sono gas fee ma le fee di bitcoin con meno di un dollaro la fai con buona priorità comunque cosmo station come wallet o kepler a me piace un pelino di più kepler mi trovo meglio su kepler ma raid che è successo ieri è mica stato listato su come caspita si chiama ma è stato listato su mamma mia mayar maya il dex il dex di 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 errond appunto mayar exchange andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere analytics dov'è che si vedono i prezzi ride price week e sul launchpad era zero virgola qualcosa pazzesco folle 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 completamente folle direi che partecipare i launchpad di mayar non è una cattiva idea ecco però adesso io personalmente non non mi dice niente questo token ve lo dico con sincerità non mi dice nulla di particolare ecco però i launchpad beh why not questo questo sì questo sì poi per accumulare più luna fare arbitraggio collateralizzando le prenderlo in prestito affiaccandolo ad un pack può essere una buona strategia fare arbitraggio collateralizzando le arbitraggio intendi col da luna bluna al burn eccetera non saprei non saprei perché per ottenere più per ottenere più luna c'è lo staking al momento l'arbitraggio non so quanto rende adesso tra luna e biluna ma non lo so cos'era coin all adesso mi son preso bene quasi riesce anche a vedere appunto la coppia bluna luna 0 995 no direi che non è più non è più cosa non è più cosa vediamo 4 ore quando è sui 0 97 0 98 magari ci può stare e attenzione ai volumi è perché se muovete grosse somme c'è slippage poi però sì l'arbitraggio va va seguito attivamente gli uc sono passati più di 25 giorni dall'unbonding dei biluna e non me li trovo da nessuna parte come mai bella domanda dai un occhio alla transazione prova a dare un occhio alla transazione perché di solito se il lambond ma dallo staking o da anchor tra l'altro hai detto biluna vero sì quindi dovrebbe essere da anchor e te lo dovresti trovare no è strano cioè a volte ci vuole un po' di più dei 21 giorni però di solito 24 mi pare che sia il massimo no esatto fino a 24 giorni perché ci sono dei lotti di di tre giorni e quindi prova prova a ritornare qua se ti dice qualcosa dovresti non lo so dovresti vederli qua dovresti vederli lì sì poi 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 dunque 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 ciao luke sarà la trentesima volta ma prima o poi mi leggerai ce l'abbiamo fatta conosci la piattaforma a ax il suo token ab ha solo 6 milioni di cap mi sembra un enorme regalo a ax l'ho sentita già nominare come quest exchange qua e questo tra l'altro era regolamentato mi era comparso ma non mi ricordo dove mi ero fatto una buona impressione però di quest exchange dovrei approfondirlo perché ora ora come ora non non ti so tanto rispondere però mi ricordo che mi aveva fatto abbastanza una buona impressione però ripeto dovrei approfondirlo dunque dunque hai dato un'occhiata main player e ho visto che è durato tipo 20 secondi il pre sale e poi è stato totalmente fulminato totalmente fulminato è normale che il bonifico sepa su ft x ci metta tanto sì soprattutto il primo ci mette anche a volte una settimana o più perché ultimamente sono abbastanza spinti compariva come pubblicità in break ecco bravo bravo esatto esatto nelle nuove schede a volte ti esce fuori a volte si ti esce fuori ed è da lì che l'ho visto adesso non mi esce più fuori nulla ma sì nuova scheda a volte c'è qualche scillata al suo interno yes yes poi piccole somme investite mensilmente 100 200 euro su defy che piattaforma consigli ancor guarda dipende da dal livello non ti posso consigliare nel senso dipende da tante cose da che livello di rischio vuoi tenere da se conosci bene le chain se poi vuoi andare a spostare su qualche altro asset ti dico ancor secondo me livello di difficoltà rischio e rendimento è un ottimo compromesso poi ripeto dipende da te luke buonasera che fine ha fatto di ydx e è sempre lì è un exchange di derivati di ydx decentralizzato è qua non è non è scappato non è non è scappato da nessuna parte tra l'altro è su star where che figata il layer 2 star where tantissima roba quelli di mutable x star club se no come si chiamano insomma quelli li è ci siamo capiti è sempre qui non so se intendevi il token forse il token non l'ho seguito tanto come sta andando benone è benone il token è stato super super infomo all'inizio adesso sta cercando un po la sua struttura è tipico no dei token che vengono lanciati in pieno hype c'era stato un airdrop disumano e vabbè adesso è in price discovery lato proprio strutturale high e low questo è tanti auguri di buon natale da di ydx facciamo un altro alberello tac 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 vedete come spell adesso c'è di ydx con la stellina sopra anche lui e i regali qua sotto i regali sono le bags del token col simbolo del dollaro tac allora bene basta degenerare procediamo ma la carta di blog fai c'è anche in europa la carta di blog fai purtroppo no non c'è in europa e che io sappia dunque avevano detto che volevano adesso c'è soltanto in america e da il tre e mezzo per cento di cashback su bitcoin all'inizio poi da un po meno ma da sempre un ottimo cashback e soprattutto il cashback è direttamente messo a rendita su blog fai quindi è una figata è talmente una figata che la vorrei anch'io ma purtroppo ora come ora è soltanto negli us è soltanto negli us vediamo 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 se qua dice qualcosa no non dice ancora niente sugli altri stati ma mi ricordo che avevamo letto che avevo letto un articolo quando l'avevano lanciata dicendo che dopo gli us in sostanza arriva l'europa questo è un po' il loro progetto pilota e quindi aspettiamo e e vediamo quando arriverà nel frattempo io ne approfitto per scillarvi il mio referral link di blog fai perché noi in europa non abbiamo la carta ma abbiamo il savings account per la rendita passiva che tra l'altro serve poi per richiedere la carta se no non si può avere che da fino al 9,5 dice sempre 9 ma in realtà è 9 e mezzo perché su usdt è anche 9 e mezzo su sulle stable coin e un po meno su bitcoin ma è l'ideale per le stable coin perché da da di più ed è quello è tra quelli più sicuri parla con i regulator insomma è istituzionalizzato quindi io ve lo lascio qua il referral link col quale potete avere uno sconto e uno sconto no un bonus fino a 250 dollari ve lo volevo anche far vedere tac in base all'entità del primo deposito il bonus è per i nuovi utenti poi torniamo da voi torniamo da voi quanto costa prelevare su blog fai c'è un prelievo gratuito al mese quindi niente quanti bit si devono possedere mediamente per avere un'allocazione per cui vale la pena partecipare ai launchpad di by bit guarda io ti dico la verità anche se ne ha il minimo vale la pena perché comunque un guadagno sicuro nel senso è un di solito in media fa tra per 5 per 10 quindi magari il guadagno ha ridotto cioè la somma è ridotta ma anche se hai 10 15 dollari e ne fai 100 schifo non fa e quindi 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 a proposito adesso ne è iniziato un altro è uno dopo l'altro poi il fatto che ce n'è uno dopo l'altro è una roba folle continuamente no continuamente avere dei launchpad è veramente una roba spaziale e ogni volta appunto avere una piccola allocazione quindi quei 50 bit che sono il minimo necessario sono già sufficienti cioè non c'è motivo ecco per non partecipare sinceramente perché alla peggio che ti vada non hai un'allocazione ridotta ma con quell'allocazione ridotta hai comunque un guadagno non si può sapere a prescindere di quant'è perché dipende da quanti partecipanti ci sono tendenzialmente quindi qua non c'è ancora non ci sono ancora i dati però bisogna bisogna un po vedere quello ecco bisogna vedere quello dipende dalla locazione totale allora ciao luca conosci velas non lo conosco purtroppo non lo conosco ciao luca spero che questa volta leggerai la mia domanda eccoci ho investito nel pool vkr valkyrie quindi ust su spectrum se sposto su astroport c'è la probabilità che si riduce la perdita oddio che vuol dire non puoi spostare all lp di di terraswap dici vkr ust fa parte del del lock drop non mi ricordo controllo quello perché se non fa parte del lock drop non c'è ragione per spostarlo lì altrimenti volendo sì altrimenti sì dunque cosa mi sono perso su block file solo btc ancora gratuito gli altri a pagamento sei sicuro mi sembrava che uno al mese fosse gratuito dicono che telos dovrebbe essere la c'è il migliore con un market cap bassissimo alto poter chi è che lo dice telos è mica quella di eos no cosa che era soli uxain whitelist per l'alpha di tectonic negativo negativo assolutamente negativo purtroppo come investire in stable senza esposizione al dollaro ci sono quelle sull'euro quelle sull'euro si può diversificare un po volendo possiamo dare un occhio a avax btc volentieri volentieri molto molto estesa avax btc qua c'è un supporto settimanale volendo a 0.00 22 circa quindi vediamo un po come ci comportiamo se facciamo degli all time high quello potrebbe essere un buon entry tac tac speculativo e invece macroscopicamente non c'è molto da aggiungere ecco allora amici miei che ne fai per pax gold di fai per pax gold sai che mi sa che mi sa che non c'è mi sa che non c'è una de fai per pax gold non lo so non lo so allora niente ragazzi vi volevo dire a parte matic che sta pompando mi dite andiamo a darci un occhio non male non male effettivamente il suo grafico è non è affatto male tac perché ha rotto vedete qua una bella resistenza questa sul settimanale vediamo un po com'è ah era qua sotto la resistenza sul settimanale mentre sul daily l'abbiamo rotta qui qui c'era un cluster settimanale mannaggia mannaggia questo che è stato retestato tra l'altro hai capito hai capito e quindi che dire è in uptrend anche sul settimanale e il problema è che ha appena retestato il supporto quindi mi sa che non so proprio cosa dirti non mi sembra che ci sia un entry valido al momento c'è da aspettare l'approccio con live vedere se lo superiamo oppure no e poi ripianificare ripianificare la market cap complessiva che è il primo grafico per importanza da guardare secondo me ci mostra molto bene guardate il nuovo trend che è questo da un trend vedete che quando lo rompiamo il primo segno no di reazione un po come era successo qui eravamo in uptrend rotto con violenza proprio pam lateralità un attimino per distribuire poi di nuovo break down quindi abbiamo costruito questi blocchi tac 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 con progressione ribassista vorrei vederlo invertito no se lo invertiamo potremmo riparlarne ma in particolare il top sarebbe recuperare i 2.4 quindi andare a gravitare qua su tac tac così mentre per il momento ahimè siamo in in fase ribassista quindi bisogna aspettare di vedere se facciamo intanto un breakout da qui oppure se andiamo a rompere le scatole ai due trillion che è il supporto precedente e peggio ancora lo perdiamo quindi andiamo a scalare ancora in basso di un altro blocco e procediamo il ritracciamento fatemi fibonacciare un secondo su questo grafico perché vediamo dove siamo al momento tac tac siamo allo 0,5 spaccato guardate che precisione chirurgica mi gaso quando vedo i grafici così che reagiscono così bene tac 0,5 pettinatissimo e quindi per adesso non è ancora neanche un ritracciamento troppo violente 0,5 sull'ultima leg up tra l'altro vedete questa qui adesso dobbiamo un po' vedere che succede come approcciamo i due o se recuperiamo i 2.4 dipende un po' da lì e come vedete è anche parallelo all'andamento di bitcoin anche bitcoin deve decidere se andare a recuperare i 52 mila quindi andare a fare a reagire bene andare quassù e il primo segno potrebbe essere vedete qua il fatto che è uno sweep quindi vedete abbiamo sweepato qua sotto stiamo iniziando ad assorbire se assorbiamo come dio comanda magari con un higher high qua in seguito ecco sarebbe un po' il primo segno settimanale fondamentale vi dicevo all'inizio della live perché sul settimanale vedete si è creato un po' questo range tac tac con sotto i 47 mila e qualcosa e sopra i 52 se ci rimaniamo dentro vedete siamo in questa zona laterale se li perdiamo ahimè soprattutto dopo una sola candelina cioè veramente offerta dominante leg down una candelina leg down è è brutto no da vedere quindi io spererei quantomeno di rimanerci dentro e consolidare un po' qua che vedete stanno iniziando ad accumularsi i volumi potrebbe diventare un'area di accumulazione no tra qua sotto e magari se spingiamo un po' anche questa zona mentre se andiamo di nuovo giù ve l'ho detto andiamo a fare un equal low poi dobbiamo rimbalzare cercare l'hai e l'hai magari non è bellissimo e quindi il rischio è di fare una cosa così purtroppo peggio ancora sarebbe chiaro andare a fare un lower low in quel caso lì insomma capite bene che più ci allontaniamo dal top e più la situazione rallenta e diventa lungo e difficile andare a recuperare ultimo grafico che guardiamo vabbè etereum bitcoin guardiamolo ancora anche se wow bello eh laterale qua sopra ha fatto il retest chirurgico me lo sono quando l'ha fatto qualche giorno fa mamma mia chirurgico e guardate la domanda tac tac domanda su etereum notevole notevole alla faccia e quindi sembra in accumulazione sembra proprio in accumulazione etereum ora come ora mentre io volevo andare a vedere la dominance eccola la dominance che è sempre appiattita vedete quindi si sembrava un recupero di voler far riprendere piede a bitcoin ma non ancora granché quindi siamo ancora in terreno neutrale dai per le alte dobbiamo ancora capire anche perché c'è tanta concentrazione su quelle poche alt che performano bene luna avalanche solana etereum a sto punto porco cazzo cos'è sta roba cos'è successo mamma mia cos'è successo qua che che è che è convex e mamma mia convex convex e curve ah guardali e vabbè e vabbè allora dunque appuntamenti che vi devo ricordare per la prossima settimana sono innanzitutto innanzitutto seguirmi su twitter perché facciamo il giveaway del secondo ledger il primo è stato vinto e il secondo lo droppiamo lunedì su twitter sarà semplice partecipare vedrete e poi altri appuntamenti martedì facciamo il video tanto atteso che mi avete suggerito voi che è 5 coin che accumulerei come un pazzo in caso di bear market quindi un po di come dire qualche piccola gemma neanche tanto perché secondo me ci sono alcuni io li chiamo giganti dormienti cioè veramente ci sono dei token che non capisco come fanno a essere lì ecco lì giù e ne parleremo ne parleremo quindi sta a jorna ha subito un buyback bene grazie grazie per l'update adesso vado ad approfondire e basta questo è quanto quindi mi raccomando sul pezzi quando irropi la canotta da spiaggia the crypto gateway ragazzi è inverno aspettiamo un po dai però arriva per la prossima estate avete la mia parola che ce l'avete ok scrivetevelo pure perché ce l'avrete promesso promesso facciamo anche un po di stickers da appiccicare in giro sulle sugli euri sulle pareti dell'ebano a scherzo sto scherzando ovviamente non fatelo ragazzi bene vi faccio un carissimo saluto vi auguro un buon weekend a me aspetta una maratona di cene di natale questo è il periodo quindi mangerò e berrò senza un domani alla facciaccia di bitcoin che spero che nel frattempo ti prego pompa amici buona serata e alla prossima